Caro Presidente Giorgio Napolitano, oggi è giovedì 16 settembre 2010 e su vari giornali e tra cui l'odierno Corriere della Sera leggo che in Italia a Milano ci sono 20.000 avvocati, la metà di tutti gli avvocati che ci sono in terra di Francia, 20.000 avvocati solo a Milano che sono la metà di tutti quelli della Francia, eccolo qua, prima pagina del Corriere della Sera odierno e dentro c'è il servizio. Poi sapevo già da tempo che solo nel Lazio ci sono tanti avvocati quanti ce ne sono in terra di Francia. Allora io siccome ho sentito che lei recentemente ha avuto buone parole, parole di sprone nei confronti del governo affinché il governo faccia di più per scuola, università e ricerca. Scuola, università e ricerca. Però io avrei voluto sentire anche da lei e chi è che poi li va a sistemare tutti quelli che hanno studiato, che si sono laureati? Cioè lei ha detto sì, che il governo faccia di più. Guardate i presidenti che io non sono né del centrodestra né del centrosinistra, io sono Serafino Massoni e le mie idee politiche le ho già espresse nel mio video intitolato «Se io fossi il premier» e nel video «Se io fossi il premier» ho detto chiaro e tondo che i politici, per essere credibili, dovrebbero essere inuti e crudi, cioè privati della proprietà privata. Quindi per carità, né destra né sinistra, perché tanto sia a destra che a sinistra i parlamentari hanno tutti la stessa paga e quando si hanno tutti la stessa paga vuol dire che pari si è, si è pari, si è pari, una volta c'è la destra, una volta c'è la sinistra, ma la musica non cambia. Allora, caro presidente Giorgio Napolitano, lei però avrebbe avuto il dovere, mi perdoni, mi perdoni, mi perdoni, non è un'insolenza, parla chiaro, 20.000 avvocati solo a Milano, solo a Milano, in Francia ce ne sono 40.000, cioè in tutta la Repubblica Francesca ci sono 40.000 avvocati e a Milano ce ne sono 20.000. E c'è qualcosa che non quadra, presidente, perché certo lei ha preso tanti applausi quando ha detto più scuola, più università, più ricerca. Sì, ma dove li mettiamo poi? dove li mettiamo? Nessuno Stato a questo mondo può trovare il posto di lavoro a tutti i laureati quando i laureati hanno superato una certa soglia. Secondo me, io sono un cittadino, qualsiasi cittadino, secondo me lei, caro presidente, l'avrebbe dovuto far notare questo, trovare il coraggio di dire delle verità impietose, cioè di dire ai giovani, perché il suo messaggio è rivolto sia ai politici che ai giovani, che sì, la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma non c'è mica scritto che tipo di lavoro è, non c'è mica scritto che deve essere un lavoro quello che si fa con le mani pulite, il lavoro è nobile, qualsiasi tipo di lavoro è nobile, basta che lo si faccia onestamente. Per me, caro presidente della Repubblica, uno scopino è nobile come un avvocato, come un architetto. Per me uno scopino è nobile come lei, caro presidente della Repubblica, va bene, basta che faccia il suo dovere. Allora perché non lo dice ai giovani questo? Perché non buttiamo via tutti questi discorsi retorici, diciamo i giovani la verità. Caro presidente della Repubblica, lo vede bene che in Italia ci sono 4 o 5 milioni di schiavi, schiavi comunitari ed extracomunitari che fanno tutti quei lavori cosiddetti sporchi che fino a 30 anni fa facevamo noi italiani. Poi è arrivato Mario Cabanna nel 68 e ha rivoluzionato gli accessi universitari, però Mario Cabanna oggi scrive per il giornale di Silvio Berlusconi, così come Fidel Castro oggi, dopo 50 anni di comunismo a Cuba si è convertito al capitalismo. Allora perché non glielo diciamo ai giovani che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e che una cosa è il pezzo di carta, il pezzo di carta e un'altra cosa è la cultura e che i giovani non devono necessariamente studiare per diventare avvocati perché poi non saranno avvocati, saranno disoccupati, non devono studiare per fare i professori delle scuole perché poi saranno disoccupati, ma perché non abbiamo il coraggio, non abbiamo il coraggio Presidente della Repubblica di farlo questo discorso chiaro e tondo, no? Mettiamo da parte la retorica, ma andiamo. Come fa lei Presidente della Repubblica a fare certi discorsi a dire coraggio più scuola, più università, più ricerca? Ma dove li mettiamo tutti questi laureati, questi ricercatori poi? Dovrebbero essere assunti dal Quirinale perché tra l'altro, caro Presidente della Repubblica, io ho notizie che il Quirinale dove lei svolge le sue funzioni di Presidente della Repubblica costa l'erario dello Stato molto di più dell'equivalente edificio della monarchia spagnola, dell'equivalente edificio della presidenza francese, dell'equivalente edificio della presidenza tedesca, dell'equivalente edificio della monarchia inglese e dell'equivalente edificio statunitense della White House. Io ho letto queste, magari lei mi può smentire, c'è tanti segretari che possono smentirmi. Io ho la documentazione che il Quirinale costa un occhio dalla testa, prima di dire al governo più scuola, più università, più ricerca, bisognerebbe diminuire un pochettino i costi del Quirinale. E poi visto che oggi abbiamo al Ministero della Pubblica Istruzione Maria Stella Germini, caro Presidente della Repubblica, ma perché nei suoi discorsi non ricorda che la Maria Stella Germini, con la quale io non c'è nulla che spartire, c'è soltanto da due anni al Ministero della Pubblica Istruzione. Prima ci sono stati una cinquantina di ministri. Perché non ricorda quando fai sui discorsi in modo di pacificare gli animi? Capito? Pacificare gli animi. Non si ricorda che dieci, dodici anni fa al posto della Germini sedettero dei suoi colleghi di partito? Si ricorda di Tullio De Mauro? Si ricorda di Luigi Berlinguer? Signor Presidente della Repubblica si ricorda? Riuscirono forse gli egregi ministri comunisti post-comunisti Luigi Berlinguer e Tullio De Mauro, ottime personalità politica e culturale, riuscirono forse a pacificare la scuola? O non furono per caso fatti zompare per aria dai sindagati e dai pregari? Tullio De Mauro fu fatto piangere a Napoli dai pregari? Dobbiamo ricordarli queste cose ai giovani. Dobbiamo ricordare ai giovani che scuola e università non è che sono da 60 anni, da quando è nata la storia repubblicana, non è che c'è sempre stata Maria Stella Cernini, ce ne sono stati dei ministri della pubblica istruzione, ricordiamo anche che neanche i ministri comunisti post-comunisti Luigi Berlinguer e Tullio De Mauro riuscirono a soddisfare le esigenze del mondo della scuola e dell'università, perché se fosse per l'animo umano tutti i 50-60 milioni di cittadini italiani vorrebbero tutti essere assurti come impiegati del ministro della pubblica istruzione. Ma diciamole queste cose, diciamole, diciamole queste cose, invece di limitarci a dire più scuola, più università, più ricerca. E poi abbiamo in Italia legioni, legioni e legioni di giovani laureati, anche il concetto di dicelloti, ma diciamoglielo. Diciamolo ai giovani che nessuno Stato a questo mondo, nessuno Stato a questo mondo si può permettere di collocare in posti intellettuali tutti i suoi cittadini, qualora tutti i suoi cittadini fossero laureati e adesso abbiamo un surplus di laureati che davvero ha superato ogni soglia di pericolo. Ma ti lo dica, lo so che si prendono gli applausi a dire le cose belle. Ma così si incantano i cittadini, vengono illusi. Io questo discorso che faccio a lei lo potrei benissimo fare pure al titolare di Palazzo Chigi, ma lo faccio a lei che è più in alto, anche perché è lei che dà l'esempio, che ha in mano gli equilibri costituzionali. Ma glielo spiega ai giovani che sì, la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro, ma facciamo una chiacchierata sul lavoro. Perché se tutti fanno, che so, gli impiegati, gli impiegati, ma chi è che lavora la terra? Chi è che va a mungere il latte nelle stalle? Chi è che costruisce le case? Chi è che va nelle cantine di montaggio a costruire le auto blu per la classe politica? Quindi dobbiamo fare un discorso serio ai giovani, caro Presidente della Repubblica. A parte il fatto che ci sarebbero tante cose da dire sui costi del Quirinale. Io per esempio propongo a lei, Presidente della Repubblica, che con un bel taglio dei fondi del Quirinale, si costruisca una bella fattoria agricola nei pressi di Roma. In una delle pinete che sono dotazioni della Presidenza della Repubblica si costruisca una bella fattoria agricola sulla quale ci sia scritto fattoria agricola della Presidenza della Repubblica. E si faccia una bella propaganda in maniera che i tanti giovani per esempio della capitale dei ritorni possono andare a lavorare in questa fattoria agricola della Presidenza della Repubblica un paio di mesi l'anno. E perché Presidente della Repubblica in un suo discorso non invita i giovani italiani a fare le vacanze in una qualsiasi fattoria agricola? Invece di volare alle Antille, di volare a Cuba, di volare in giro per il mondo, che tra l'altro in giro per il mondo ci possono andare anche con internet. E perché non invita? Ma sarebbe così male il Presidente della Repubblica se lei invitasse i giovani a riscoprire i lavori cosiddetti manuali? Oppure ricordi i giovani dicendo voi giovani se voi non fate i lavori manuali e noi in Italia dobbiamo tenere 4-5 milioni di schiavi, di schiavi come quelli che sono scappati via dalla Calabria, prese a sassate, che raccoglievano i pomodori, erano i nostri schiavi. Ricordi che alla gente che quando va a raccogliere, va a comprare le arance nel supermercato e le arance sono state raccolte dagli schiavi. Capito? Caro Presidente, una bella fattoria agricola, magari in uno di quei bei posti nei vittori di Roma che sono in dotazione alla Presidenza della Repubblica. Una bella fattoria agricola e che sia la Presidenza della Repubblica a dire ai giovani che non c'è niente di male nel lavoro manuale, non c'è niente di male nel lavoro manuale. Ma che cosa fa? Devono tutti laurearsi in esperti disoccupanti Presidente della Repubblica? A Milano 20 mila avvocati Presidente della Repubblica e in tutta la Francia ce ne sono solo 40 mila. C'è qualcosa che non va in Italia Presidente della Repubblica e lei fa tanti interventi. Ma faccia anche questo, che è più sostanziale questo intervento perché riguarda le future generazioni. I equilibri tra le forze politiche sono importanti, ma non si può illudere i giovani. Gli si deve dire ai giovani che la cultura è bella, però cultura non si invia dello Stato dove deve dare il posto di lavoro intellettuale. Non c'è questa. Infatti in parte dei costituenti hanno detto proprio così. Fondata sul lavoro. Mica hanno detto fondata sul lavoro intellettuale. E chiariamolo ai giovani, chiariamolo. Ma Presidente della Repubblica, lei crede che vivano bene tutti questi 500 mila, un milione di giovani laureati disoccupati? A Milano 20 mila avvocati. In tutta la Francia ce ne sono solo 40 mila. E vabbè, ma potremmo continuare così pure per i professori, i laureati in materie letterali. E poi Presidente della Repubblica, io la prego vivamente di farmi sapere se tra coloro che sono stati insigniti della onorificenza di cavaliere del lavoro, benemella Repubblica, me lo faccia sapere, una mia curiosità, la prego. C'è anche qualche mungitore? Qualche mungitore? Cavaliere del lavoro, cavaliere della Repubblica o se c'è qualche muratore? O magari anche qualche metalmeccanico? Cioè io è questo che richiedo Presidente. Mi dica se tra tutte quelle persone che hanno quella medaglia e sono dichiarati, che so, cavaliere del lavoro, cavaliere della Repubblica. Mi dica se c'è qualche mungitore del latte, mungitore del latte e se c'è qualche muratore, un manovale, un manovale, c'è qualche operaio metalmeccanico? Me lo faccia sapere. Io prego i giovani che ascoltano questa mia piccola TV pubblica di far pervenire questo video alla Presidenza della Repubblica in modo che sia il Presidente della Repubblica a dire una parola circa la questione che riguarda cresci scuola, cresci università, cresci ricerca e poi qua abbiamo legioni, legioni e legioni di giovani laureati disoccupati che saranno perennemente insoddisfatti. E bisogna dire la verità Presidente della Repubblica ai giovani, non bisogna fare come Mario Capanna che ha illuso i giovani nel 68 e adesso si è rifugiato dentro Mediaset e prendi i soldi di Silvio Berlusconi, ha fatti giusti i suoi conti Mario Capanna. Prima ha fatto le barricate, adesso invece scrive per il giornale di Vittorio Feltri, nulla da dire contro Vittorio Feltri e il giornale, per carità. Io invece ce l'ho da dire con Mario Capanna, voglio dire dove è la coerenza di Mario Capanna. Io se fossi un giovane laureato disoccupato di fare causa a Mario Capanna, tu mi hai illuso, tu Mario Capanna dovevi dire a me giovane, guardate giovani la cultura è bella però potete farvela la cultura anche senza andare all'università, va bene? Perché i lavori sono tutti belli e nobili alla stessa maniera, basta che siano onesti. Mi raccomando Presidente della Repubblica, mi raccomando lei e la sua segreteria, guardate il mio video intitolato se io fossi il premier in modo di capire quale sono le mie tendenze politiche, valutate seriamente questo video perché basta, 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 basta retorica, basta retorica e quando lei Presidente della Repubblica esamina il mondo della scuola che adesso è retto da Maria Stella Germini e cerchi di ricordarsi come andavano le cose della scuola ai tempi dei lontani predecessori da Maria Stella Germini che erano gli ottimi Luigi Berlinguer e Tullio De Mauro, ministri della pubblica istruzione, comunisti, post comunisti e anche loro non ci riuscirono a contentarlo al mondo della scuola e sempre perché i cattivi maestri avevano detto abbandonare tutti i lavori manuali, tutti tutti a fare i lavori impiegati e poi chi è che va a mungere il latte, chi è che va a zappare la terra e chi se ne frega, chi vivrà vedrà, soprattutto caro Presidente della Repubblica mi raccomando di farmi sapere se tra i cavalieri del lavoro o i benemedi della Repubblica c'è anche qualche mungitore, qualche zappatore, qualche muratore o qualche operaio metalmeccanico. Voi cari amici che mi seguite e che siete molti più bravi di me in certe questioni mi raccomando mandate questo video all'attenzione del Presidente della Repubblica o all'attenzione della sua segreteria. Grazie Presidente della Repubblica, grazie cari amici a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.